Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Spalmata all'infinito papà 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 e non si leva più perché è un buco nero infinito la merda continuo proprio Guarda non la tiene più f Questi mesi dati in faccia mentre c'avevo scompa e il mio compa non spara poi la vedo quella calda Io beh sicuramente la concezione migliore No c'è il 190 C'è il 190 E' giusto così Xveter E' giusto così 190 e poi i crepi Mi ha fatto max damage davvero? Sì, 190 Ho visto la vita ha fatto Allora prima gli ho imparato No perché ormai ho imparato a usare il prime Il prime si non fa danno ma Ormai ho imparato a usare il prime E prende il cazzo Vabbè che cazzo volete? No 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 Ecco Tranquillo Ne ero convinto che fosse una zipline invece di essere una l'antenna di un coso Ah io mi prendo le chili, grazie 70 da l'anima caduta signori Sono 6 splash in più questo Sono tranquillo No io ce n'ho 12 il chili Sto usando il cecchino perché voglio impararlo Bene, bene così Non è buono eh No no Con Vincenzo allora li possiamo veramente prendere i 15.000 punti arena Nice Come io l'ho avuto Ha rotto Eh questi cazzi Ha rotto E che ogni volta che giochiamo sono sempre io che ti vuole buttare Vedi cazzi Ah ma adesso Davvero fa Ok Sappi che non Non l'aiuto più No no da oggi I punti giusto per farla star lì Lì non muoverla più Oh ovviamente un game Oh che ho solo morto subito Merda Mi dispiace Vuoi che qui togri Ah è per forza da abitare Cosa? Sì è giusto Che sto facendo Sì sì devi vedere le trappole Poi fare la fake trappola Ok non l'avevo capito C'è la trappola che si buca Pizzi dove vai? Delle scale Bello come funziona sta cosa scusami Eh devi fare Particolare Non so come spiegarlo Eh guardi la clip che rimanda Dove riusciamo ad arrivare? Fra 47 secondi La base non la vedi più La gente pensa ad andare in safe Non vede la base Ciao mister Ninuzzo Yo 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 Salve mister Ninuzzo Merda Bentornato caro Un abbraccio anche a lei Grazie F F fidati Secondo me è un god conti È troppo bello da vedere Ma c'è bisogno che è gratis Ma vaffanculo F Questo è molto figo 15 euro Eh porco dia Amica 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 Io spero veramente che vostra madre scoppi Di gioia Merda Sacco sopra Loro Santasa 21 Parte della ciurma Parte della nave Salve santa Parte della ciurma Parte della nave Mare Mares Ah Felipostiere Marrano Non faccia Ah Morenz 88 regala due abbonamenti Ma non regali due abbonamenti Mi scusi Che cosa fa È vero Esatto Itas vuol dire italiani Asbrega 186 in 4 game Abbiamo 1 ora e 25 minuti ancora Comunque è incredibile che tutti quelli che si piazzano bene Che fanno sempre soldi Sono sempre gli stessi E beh sono dei campioni Un po' da fare Eh sì Cioè è un altro livello Minchia il vinile Il vinile da suo primo autografato costa 70 euro Il che? Ah Il vinile Ah mi spiace Andiamo andiamo Sembra che non sia passato nessuno di qua No merda No merda è toccanuto Merda Iiiii Così Iiiii L'abbiamo vinto un cazzo Cosa vi ho detto La faccio a KS1 Iii Grande Vorrei fare un piccolo Sto sborrando Sto sborrando anch'io Cazzo A bravo signori Ciao Nerfer Grazie dei 4 Salve No io mi incazzo proprio Ok Gov Perché ti incazzo Ragazzi non mi dà passaggio Non so perché Che cazzo ne frega a me Insomma So che anche gli altri scherzano Ma loro mi danno passaggio comunque Merda Sì ma siamo 80 Ah ok Buono 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 92 Si fila Abbiamo 50 kg a testa dal Marco E abbiamo Sì vabbè metà della lobby Che sarebbe Mi hanno fatto splodere con la coca Codi Codi Mare Puttana Eh vabbè metti pronto Ma chi è che mi sta ricoprando Raggins quanto Tarella Raggins quanto cazzo Tarelli Sì sì vado avanti Vado avanti Tiriamo dritto No merda Giudere che glielo sta lei 41 Giulio Vincenzo 41 Non lo so 43 Eh davvero Giudere non è almeno un terzo Ho capito ma devo smettere perché continua a fare male ogni tanto nel senso Tieni qua sbocco No vince organizziamo la seria No io veramente stavo facendo Non stavo scherzando No no allora Scusate una cosa che dice vedi Vincenzo Non scherza mai Cioè se dice voglio fare Lo vuole fare Non è che ci sentiamo in privato per organizzare Oppure chiediamo direttamente ai manager Cazzo ovunque ti rende scherzando manca meno di un mese e me E appunto cioè Tutto che scala da me? Qua sopra? Sono qua Attaccato tutta la Kogan A un'edita Da me? Sì lo vedo vedo Non gli entra un bullet 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 che sia uno Ma sto la matto Lo matto Oh freda C'è la c'è la c'è 21 mesi Con cosa? Con cosa mi curo? Sta mirando Vincenzo il fight Dai perché faccio schifo al cazzo 105 Porco Una traconda Io sono solo se ne fattiva Mi interesserebbe riuscire a capparmi di legna e di pietra Eh ma con credo ho fatto peggio eh Con credo abbiamo fatto 132 punti Tre game finali Tutti e tre a zero punti Minchia ma era una nonce di coco Questa qua non era un'anguria Quanto cazzo era grande Andiamo C'è un bus lì davanti al benzinaio Che è veramente molto goloso Ok Il potrebbe non essere Cioè nel bus non penso ci sia gente Sulle montagne vedo solo una jump piazzata Volendo potremmo anche camperare nel benzinaio Sono d'accordo ma è troppo Troppo Ovvio Entro nel bus Ed è free Buon posto posto State rifermi Nel caso di Apex al blob Andate via Se ne va il cromo Non abbiamo ancora un pop Ma la vera domanda è Da dove stavano arrivando Quei colpi Minchia raga sono già le 14.50 Merda Devastante come passa il tempo insieme raga Pazzesco Pazzesco raga Il tempo con voi vola Il tempo vola raga Pazzesco Il tempo più Il tempo è di più